Il mercato immobiliare è in forte difficoltà e nel secondo trimestre dell'anno le compravendite hanno visto un calo del 16%. Quindi dobbiamo necessariamente fare un approfondimento. Cercheremo di capire se davvero non è solo il settore immobiliare ad essere crollato, ma è crollata tutta la nostra civiltà. Scopriremo se davvero le multinazionali vogliono prendersi le nostre case e se davvero tutto questo è un diabolico piano orchestrato da Klaus Schwab del World Economic Forum. Ma soprattutto risponderemo alla domanda delle domande. Sì, tutto bello, ma chi sponsorizza questo video? E siamo felici di comunicarti che questo video ha un vero sponsor che è NordVPN, di cui parleremo più approfonditamente in seguito. Bene, parliamo di immobili. Prima di commentare questi dati e cosa sta succedendo all'intero settore immobiliare italiano, una serie di importanti premesse, soprattutto perché quando qualcuno parla di immobili, di finanza, di investimenti, è sempre importante capire con che cappello te ne sta parlando. E infatti Marco Giannotti dice, ma io non capisco, un agente immobiliare che fa analisi di macroeconomia? Ma dai, testa d'uovo. Mi dispiace, ma Marco non ha capito che, uno, non sono un agente immobiliare, ma sono un investitore immobiliare, ho una società che si occupa di investimenti immobiliari che si chiama Vendhouse, attività che è in parallelo alle attività di piano finanziario, società che si occupa di formazione e consulenza in ambito finanziario. Quindi non ho conflitti di interesse, mi occupo di investimenti finanziari, mi occupo di investimenti immobiliari, non penso siano adatti a tutti, ma nella mia personale strategia di investimento ho capito cosa cogliere il meglio da questi due mondi. Quindi non ho conflitti di interessi che mi spingono a parlarti bene o male del settore immobiliare o del settore finanziario. E soprattutto vorrei poter dire di essere un immobiliarista così forte, così potente, che sta convincendo i proprietari a svendere i propri immobili. Nel nostro piccolo convent house acquistiamo e vendiamo più o meno un appartamento al mese, ci muoviamo sulle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna, e quindi anche volendo non siamo in grado di manipolare il mercato. Però in prima persona sono molto interessato, visto che ci sono diversi soldini investiti in immobili, a capire cosa sta succedendo al settore immobiliare, e soprattutto alle difficoltà che potremmo incontrare nel rivendere i nostri immobili. Ad esempio adesso siamo a metà della ristrutturazione di un cantiere in via Mascagni a Modena, e ovviamente siamo attenti a verificare, parlando con le agentie, parlando con i mediatori creditisti, se il prezzo di rivendita che abbiamo pensato è realistico nei tempi che abbiamo pianificato. Quindi queste informazioni che condividerò in questo video sono un po' il concentrato delle riflessioni che circolano all'interno delle chat di WhatsApp con i miei soci di Vendouse, tutte fonti che sono racchiuse in un bellissimo PDF che commenteremo in questo video, che puoi scaricare gratuitamente alla fine del video. Quindi, aggiornamento su prezzi e compravendite. La domanda che si pongono tutti è, ma quando calano i prezzi degli immobili in Italia? Bene, per dare una risposta a questa domanda dobbiamo capire cosa sta succedendo al mercato immobiliare, e ho trovato un paio di articoli che ci permettono di inquadrare meglio la situazione. Il primo è questo dell'idealista. Bene, nel secondo trimestre dell'anno il calo delle compravendite è stato del 16% rispetto allo stesso periodo del 2022. E come vediamo, si vede a occhio, questo è il numero di compravendite. Il piccolo abbiamo toccato nel 2022, verso la fine del 2022, mentre il 2023 è partito subito già dal primo trimestre con un deciso rallentamento delle compravendite. Il calo delle compravendite avviene sia nei capoluoghi, meno 17%, ma anche nei comuni minori, meno 15,4%. Quindi, vedremo che ci sono delle eccezioni, ovviamente, però è un calo generalizzato. E la ragione di questo calo, secondo me, l'hai già intuita. Perché l'aumento dei tassi di interesse non ha limiti geografici, e quindi impatta qualunque tipo di immobile. Nella classifica delle città dei capoluoghi più in difficoltà abbiamo Bologna, meno 22,8%. Capisci perché sono interessato a conoscere il mercato locale? Eh, per queste ragioni. Milano, meno 17%. Quindi anche Milano, che era ripartita molto prima di tutto il resto d'Italia, in termini di aumento delle compravendite e aumento delle quotazioni, non è esente da difficoltà in questo momento. Ma cosa succede ai prezzi? Nello stesso report dell'Istat sono stati analizzati gli indici dei prezzi delle abitazioni, acquistate per fini abitativi o per investimento. Quindi fondamentalmente sono dati che si prendono dai rogiti. E nel secondo trimestre dell'anno emerge la fase di rallentamento della dinamica tendenziale dei prezzi delle abitazioni, scese allo 0,7% dal 5,2%. Che cosa significa? Perché terminologie piuttosto complesse. I prezzi possono crescere, bene, e questa è una crescita rispetto all'anno precedente, ma possono crescere più velocemente o meno velocemente della rilevazione del periodo precedente. Quello che emerge da questo dato dell'Istat è che i prezzi delle case stanno sì crescendo nel nord-ovest, più 2%, più 2,5%, ma ad un tasso di crescita molto inferiore rispetto alla rilevazione precedente. Quindi vuol dire che stanno crescendo, ma fanno fatica a crescere ulteriormente, segnale che qualcosa sta scricchiolando. Al nord-est i prezzi stanno sì aumentando, ma ad un tasso di crescita ancora inferiore. Al centro sono praticamente stabili, al sud e alle isole stanno già calando. Per quanto per alcune persone il prezzo degli immobili sia già molto basso, adesso cercheremo di concentrarci su le ragioni della nuova crisi dell'immobiliare, che potrebbe vedere l'inizio se si confermeranno questi fenomeni che stiamo notando. E questo articolo ci permette di fare una panoramica piuttosto completa di quelle che sono le sfide che deve affrontare il settore immobiliare, che possono essere riassunte in inflazione, rincaro sui mutui, addio del super bonus, vincoli guè sugli edifici green e basta. E avanza, potremmo dire. Il mercato delle case sta entrando in una nuova fase di crisi e la prima ragione delle difficoltà del settore immobiliare è, come facilmente intuibile, l'impatto dell'inflazione, a cui si aggiunge l'impatto del mancato adeguamento dei redditi all'inflazione, che fanno sì che negli anni 70 un operaio che guadagnava 50.000 lire al mese poteva permettersi di comprare casa, in media dopo circa 20 anni di lavoro. Oggi, con un stipendio mensile di 1.300 euro, non basterebbero neanche 40 anni. C'è un grosso tema di sostenibilità dell'acquisto dell'immobile. Ovviamente ha un grosso impatto su compravendite e di conseguenza prezzi, perché se non ci sono compratori, non ci sono compravendite, e se vuoi vendere, devi abbassare il prezzo. Questa è la legge della domanda e dell'offerta. Legge che può essere infranta nel breve periodo, nel lungo periodo è molto più difficile che possa essere infranta, per quanto è indiscutibile che l'Italia ha delle specificità, che vedremo più avanti nel video, che comunque fanno sì che questo fenomeno potrebbe aver bisogno di più tempo che altri paesi per manifestarsi. Quindi salari bassi, precarità diffusa e un elevato tasso di disoccupazione, giovanile intendo, rendono l'acquisto di un'abitazione pressoché impossibile per molti italiani, specialmente per chi ha meno di 40 anni, chiamiamole ancora giovani. Io ne ho appena fatti 40, quindi sono ancora giovane, diciamo. E ovviamente è difficile per chi non può contare sul sostegno economico della famiglia. Quindi chi deve farcela con le proprie forze, quindi deve utilizzare un finanziamento più o meno grande, in questo momento è in grande difficoltà. Infatti vediamo una flessione dei mutui ipotecari dal 51,9% al 41,8%. È una flessione logica se si considerano che in un anno i tassi di interesse sono più che raddoppiati, dall'1,89%, non è ben chiaro per quale durata di mutuo, al 4,08%, potrebbe essere un mutuo a 20 anni o 25 anni. Ma ci sono altri aspetti che non aiutano il settore immobiliare in questo momento, oltre al tema del potere d'acquisto e ai tassi di interesse. E mi riferisco all'impatto del super bonus, perché il super bonus ha avuto un impatto da vari punti di vista, sull'incertezza che ha generato associata a determinati immobili, che non è chiaro se faranno il super bonus, se non lo faranno, quali saranno i costi. Negli ultimi due anni nel mio condominio sono state fatte almeno 6 o 7 riunioni su questo tema, con un dispendio di tempo e energie che grida veramente allo scandalo. Ma a questo si aggiunge un altro tema, l'impatto che ha avuto l'idea di poter sfruttare il super bonus sui prezzi. E c'è chi se ne è accorto ovviamente dei prezzi folli che queste iniziative hanno portato sul mercato immobiliare. Ma come fa una villa da ristrutturare di 60-70 anni anni fa a costare 350.000 euro? Ma chi li ha? E soprattutto quando ci capita di fare offerte per pallattine degli anni 50-60, che quindi hanno 60 anni, non hanno mai visto una ristrutturazione. stiamo magari valutando di fare un progetto di ristrutturazione completa dell'immobile con Vendaus, il venditore ovviamente dice, ma c'è il super bonus, paga pantalone, di conseguenza a te non costa niente, io te lo vendo a un prezzo più alto. La risposta che diamo a questi proprietari è, se c'è il super bonus fallo tu, no? Cioè nel senso, io mi devo prendere il rischio imprenditoriale, me lo prendo, ovviamente ci deve essere un guadagno, ma visto che paga pantalone fallo tu. Ovviamente la persona non lo fa, però i prezzi di vendita rimangono alti e magari l'immobile rimane sul mercato per un paio d'anni, in attesa che vengano ritarate le aspettative dei venditori. A questo si aggiunge un altro tema, che non è un vento favorevole per il settore immobiliare. La proposta di legge europea sulle case green, che se approvata renderà obbligatorio per tutti gli edifici residenziali raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la D entro il 2033. Ne parlamo in primavera. È un progetto che magari dal punto di vista ambientale è ambizioso e auspicabile. Nei tempi e nelle modalità è assolutamente irrealistico, soprattutto in un paese come l'Italia, in cui 6 immobili su 10 sono in classe G. Cioè praticamente dovremmo ristrutturare il 65-70% degli immobili in Italia nei prossimi 10 anni. Cioè, sono scenari che sono incommentabili, tanto sono irrealistici. Per quanto la normativa europea preveda ampi ed eroghi e contributi pubblici alla riqualificazione e sebbene l'efficientamento farà lievitare il valore dell'immobile, sì, di chissà quanto e in quanto tempo, la misura contribuisce inevitabilmente a disincentivare l'acquisto. Quindi la parola d'ordine per il settore immobiliare in questo momento è incertezza. Incertezza sulla stabilità del proprio posto di lavoro, sulla dinamica dei prezzi, sulla percentuale dei tassi di interesse, sulle tariffe energetiche, sulla normativa italiana e comunitaria. E di fronte a queste incertezze, il cittadino medio difficilmente decide di imbarcarsi in un acquisto impegnativo come quello di un'abitazione. O potremmo riformularlo in meno persone possono permettersi di comprare una casa e convivere con questa incertezza, oppure un numero ragionevolmente accettabile di persone può comunque comprare casa, ma a prezzi più bassi, prezzi e condizioni adatte all'attuale contesto di incertezza. Se quindi il 2022 si è chiuso con un volume record di compravendite pari a 784.000, per il 2024 si prevede un calo a 643.000 operazioni e il 2023 si chiuderà lì in mezzo a cavallo dei 700.000. E i prezzi? Per il momento i prezzi stanno tenendo, come abbiamo visto, solo però nel nord, il centro pari il sud già in contrazione. Guardando al 2024, Nomisma prevede quotazioni ancora invariate in termini nominali. attenzione, nominali vuol dire quanto costa all'ordo dell'inflazione, crescita dello 0,2%, quindi 0 diciamo, ma tenendo conto dell'inflazione, il dato si tradurrebbe in un calo reale del 2,5% e qua cade un italiano su due che non sa la differenza tra rendimenti reali e nominali. Uno su due, magari, forse otto su dieci, perché l'obiettivo dovrebbe essere rivalutare il patrimonio in termini reali, cioè al netto dell'inflazione. E quello che emerge è che in questo momento l'immobiliare non sta tenendo il passo dell'inflazione, quindi i prezzi tengono, ma l'inflazione è ben oltre il 2%, quindi in termini reali, al netto dell'inflazione, il prezzo degli immobili sta calando. Questo non vuol dire che sia più facilmente acquistabile se in termini reali il prezzo è calato, perché se il tuo stipendio, se il tuo reddito non sia adeguato con l'inflazione, ed è uno dei temi che stiamo discutendo, per te l'immobile rimane comunque difficilmente acquistabile. E se è difficilmente acquistabile, cosa si fa? Si va in affitto. E stiamo assistendo appunto ad un boom di locazioni. Quindi gli affitti sono cresciuti nel primo trimestre del 2023 del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, perché la gente ha bisogno di un tetto sulla testa, quindi se non è in grado di comprarlo, deve andare in affitto. Sempre secondo Nomis, ma molte famiglie restano intrappolate nell'affitto e condizionate dall'aumento dei canoni di locazione che specie nelle grandi città hanno raggiunto livelli non facilmente sostenibili rispetto alla capacità reddituale delle famiglie. Come si valuta questa sostenibilità? È il rapporto tra l'affitto e il reddito di una famiglia, del nucleo familiare. Secondo la società di consulenza, la percentuale di nuclei in affitto che per i prossimi 12 mesi potrebbe andare in difficoltà con i pagamenti del canone, cioè dell'affitto, salirà dal 31,4% al 34,8%. Se la tua idea era di andare a comprare immobili da mettere in affitto, così da dare un tetto sulla testa a tutti quelli che non si possono permettere di acquistare un immobile, stai attento perché in base a chi ha affitti il rischio è che, come vediamo, i tassi di insolventa, chi non paga l'affitto, è destinato ad aumentare perché la difficoltà delle famiglie sia nell'acquistare l'immobile sia nell'andare in affitto. A maggior ragione se i canoni sono riadeguati, magari seguendo l'indicizzazione Istat per tenere conto dell'inflazione. Vuoi scoprire quali sono i punti di forza e di debolezza della tua personale situazione finanziaria? Vuoi capire se stai concentrando energie, sforti, tempo, sulle giuste priorità che ti permettano di creare un piano solido di crescita del tuo patrimonio? Se stai cercando chiarezza su questi temi, non perdere l'opportunità di accedere al nostro servizio chiamato Checkup Finanziario al 50% di sconto fino a domenica sera. Otterrai un'analisi approfondita della tua gestione finanziaria, così da capire su cosa devi migliorare, su cosa devi concentrarti per realizzare i tuoi obiettivi finanziari. Trovi tutti i dettagli di questa offerta nel link qui in basso o in descrizione di questo video. Ma Mauro dice, per quello che conosco, parlare di media del mercato e quindi andamento dell'intero mercato immobiliare è completamente inutile e forviante. Si venderanno sempre gli immobili di buona fattura, nuovi e venduti ad un prezzo congruo. La definizione di congruo è sempre molto relativa, con congruo per chi? Nelle zone che contano questa fetta di mercato non conoscerà crisi significative. La roba vecchia da ristrutturare nelle zone non appetibili resterà sempre vuota oppure affittata a persone che non possono permettersi altro. E questo è indiscutibile, nel senso che è ovvio che il mercato immobiliare che segue una regola, che probabilmente avrai sentito, che è location, 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 regola americana per ricordare che il mercato immobiliare è locale, dipende da dove stai comprando l'immobile, chi è il target, chi è il potenziale cliente, sia nel caso di vendita, sia nel caso dell'affitto. Quindi puoi avere grossi squilibri tra zone differenti, sia all'interno della stessa città, sia all'interno della stessa regione, sia all'interno di uno stato come l'Italia, che da nord a sud ha differenze di redditi e di patrimoni importanti. Quindi per capire cosa sta succedendo al mercato immobiliare italiano, ovviamente ti riporto dei dati medi nazionali, allo stesso tempo sono ben consapevole che Milano è un mercato a sé, che può avere anche dei compratori esterni al popolo italiano, come ci ricorda Luca, in cui molto spesso fondi comuni di investimento, quando vedono delle difficoltà nel settore immobiliare, e vedono delle opportunità di comprare tanti immobili a prezzi scontati, entrano, e questo è sicuramente uno scenario verosimile per città come Milano, Roma, Venezia, Firenze, eccetera, però l'Italia è fatta anche di altre città, città piccolina come Modena, che tutto sommato regge molto bene, perché comunque è una città industrializzata ed è un'ottima piazza anche per fare quello che faccio con Vend House, ovviamente ci sono altre zone che non sono di interesse per investitori esteri, e quindi in queste condizioni sono destinate a vedere una riduzione dei prezzi dei loro immobili. Per quanto riguarda la fattura, cioè per quanto riguarda le condizioni interne dell'immobile, dobbiamo aprire un altro tema, che è relativo appunto allo stato di conservazione del patrimonio immobiliare italiano. Come abbiamo visto prima, il patrimonio immobiliare italiano è fatto per lo più di immobili vecchi, 6 immobili su 10 sono in classe G, e non ho i dati qui pronti relativamente all'adeguatezza sismica degli edifici, ma ti posso garantire che non siamo messi bene neanche da quel punto di vista. Quindi tornando al commento di Mauro, dice, gli appartamenti di buona fattura si venderanno sempre, ed è poco ma sicuro, ma la vera domanda è a che prezzo si venderanno, soprattutto in un contesto in cui sono pochissimi gli appartamenti nuovi e di buona fattura, e l'impatto di questo rallentamento si vede anche sulle abitazioni nuove. Nel secondo trimestre del 2023 si è registrato l'acquisto di 14.000 nuove abitazioni, pari al 7,6% del totale, quindi quando parliamo di compravendite di immobili nuovi sono meno del 10%, la maggior parte delle compravendite sono di immobili da ristrutturare, potremmo dire, o in condizioni abitabili. Abitabili vuol dire che l'ultima ristrutturazione l'hanno vista 20 anni fa, non è nuovo, ma è in condizioni buone, ragionevoli. Ma rispetto all'analogo trimestre del 2022 si registra una decisa flessione dei volumi di scambi di abitazioni, di nuova costruzione, un calo tendenziale che sfiora il 41%, quindi il nuovo non si salva solo perché è nuovo, poi dipende da zona a zona. Ti faccio un esempio, con Vendhaus, un altro progetto che stiamo portando avanti, è un cantiere che dovrebbe partire adesso, stiamo scegliendo l'impresa, è questo, la costruzione di tre villette a schiera in un'ottima zona di Modena, molto ambita. Bene, questo è un progetto dove abbiamo già ricevuto interessamento all'acquisto, solo perché abbiamo sparso la voce con le nostre agenzie immobiliari, quelle con cui collaboriamo, e non abbiamo ancora iniziato il cantiere. Perché? Perché non ce n'è di questi prodotti, non ci sono nuove costruzioni di villetta a schiera in quella zona, quindi se vuoi il nuovo, perché è una ristrutturazione che è talmente integrale, teniamo forse i muri portanti, per il resto l'immobile viene sventrato, coibentato e rifatto da zero, bene, non si trovano. Ragione per cui non ho grossi dubbi su questo progetto e sulla rivendibilità di questi immobili, nonostante il contesto nazionale per quanto riguarda il nuovo, sia di rallentamento. Quindi, cosa aspettarsi dai prezzi? Sicuramente non un aumento in questo momento, ma quali sono dinamiche che potrebbero verificarsi? Cerchiamo di fare un ragionamento un po' più approfondito di i prezzi aumenteranno perché il mattone è da sempre il mattone, oppure i prezzi degli immobili aumentano sempre, quindi torna a scuola perché non hai studiato abbastanza. I ragionamenti che voglio condividere adesso sono la conseguenza di uno, analisi dei dati storici dell'evoluzione del mercato immobiliare, soprattutto nel ciclo più recente, quello che ha visto un crollo a partire dal 2009, se te lo sei perso abbiamo fatto questo video di approfondimento, link in descrizione in cui faccio un approfondimento molto più dettagliato, e a questo si aggiungono le innumerevoli offerte che stiamo facendo sul mercato, per acquisire un immobile al mese facciamo, non so, 6-7 offerte al mese di acquisto, e se va bene ne troviamo uno, ma gli immobili di via Mascagni di cui ti ho fatto vedere le foto prima, l'abbiamo acquistato per 150.000 euro, quando chi voleva vendere aveva rifiutato un'offerta 5 mesi prima da 170.000 euro, quindi l'ha venduto 6 mesi dopo a 15.000 euro in meno, perché succede? Perché quando mancano le compravendite questo è l'effetto, qualunque cosa è vendibile, ovviamente se ci sono meno compratori ti devi adeguare al prezzo che fanno i compratori, questo è un mercato di compratori, non è più un mercato di venditori, nel 2021 è stato un mercato di venditori, adesso è un mercato di compratori, e questo non è colpa delle agenzie che fanno loro i prezzi e quindi sono il peggior modo per vendere un immobile, no, è che semplicemente se l'agentia vuole che avvenga la transazione tra chi compra e chi vende deve fare da mediatore, deve mettersi in mezzo, e a chi vende deve dire quello che volevi prendere 6 mesi fa, oggi non c'è nessuno che te lo offre, perché la finanziabilità di questi immobili oggi è molto più difficile o adegui il prezzo o te lo tieni un altro anno, se va bene, se no altri due, e alla fine i venditori adeguano il prezzo, per quanto tempo ci sarà questa difficoltà ad acquistare fin quando non torneremo ad avere un costo accettabile associato all'acquisto dell'immobile, questo grafico non c'è per l'Italia ma ci fa capire la situazione americana che è molto simile dal momento che le cause di questa difficoltà sono prevalentemente legate all'aumento dei tassi di interesse, il costo di una famiglia per comprare la stessa tipologia di immobile, parliamo di un immobile in America, per affittarla oggi costa 1850 dollari al mese, per comprarla, vedi la linea gialla, c'è stata una profonda impennata a partire dal 2022, siamo a 2700 dollari al mese, questa è la ragione per cui la gente non può più comprare ma va in affitto, perché è insostenibile l'acquisto con gli attuali tassi e gli attuali prezzi, visto che i tassi sono stati aumentati anche la settimana scorsa, chissà quando ritorneremo a tassi della BCE come quelli degli ultimi dieci anni, magari ce ne vorranno ancora 4 o 5 per ritornare a regime, non lo so, sono stime, se l'immobile vuole essere reso acquistabile si deve adeguare il prezzo, ahimè, questo può non avvenire necessariamente nel breve tempo, un anno, perché tutto dipende dalla capacità che ha il venditore di tenersi un immobile non venduto, quindi di avere la capacità finanziaria di non venderlo ad un prezzo più basso di quello a cui vuole venderlo, che non è detto che si manifesterà mai, quantomeno non nel breve periodo, ma se lui è finanziariamente solido e lo può fare, non ha bisogno dei soldi, se lo può tenere in pancia e ci penseranno i miei figli a venderlo. Abbiamo ricevuto un sacco di riscontri di questo tipo, c'è chi invece deve vendere e adeguerà l'intero mercato ad un prezzo più basso. C'è un'ulteriore minaccia di breve periodo associata al mercato immobiliare che è associato una misura di successo che fornisce garanzie statali, specialmente alle giovani coppie alle prese con l'acquisto della casa. Quindi fondamentalmente lo Stato fa da garante. Questa garanzia permette alle banche di erogare più agilmente denaro a giovani coppie che vogliono comprare una casa. Questo sistema di accesso al mutuo con garanzia statale scade il 30 di settembre. Dobbiamo tutto augurarci che venga prolungato, altrimenti ci sono ancora meno compratori di immobili. Tra le minacce invece di più lungo periodo del settore immobiliare e attenzione non passi il messaggio che sono pessimista. Opero in questo settore, faccio l'imprenditore, sono di natura ottimista. Infatti abbiamo sbagliato qualche operazione ma la maggior parte sono andate molto bene. Però è meglio tutelarsi considerando sempre il peggiore dei casi così da capire anche su che cosa concentrarsi quando fai progetti immobiliari, se la zona è giusta, se l'immobile è giusto, eccetera. Quindi quali sono le minacce di lungo periodo? No, non mi riferisco al fatto che il World Economic Forum prevede di togliere qualsiasi proprietà e quindi il prezzo degli immobili va da zero nel giro di cinque anni ma forse questo è solo un pensiero complottista. No, mi riferisco al fenomeno demografico. In Italia si fanno pochi bambini, la popolazione è destinata a calare, se compri un immobile adesso e fai un finanziamento a 20-25 anni dovresti chiederti quanto potrebbe valere l'immobile quando hai finito di pagarlo e potrebbe essere a cavallo del 2050. Nel 2050 saremo più o meno 56 milioni rispetto ai 59 di oggi? Meno gente che ha bisogno di un tetto sulla testa, meno domanda se l'offerta è quella, anzi, a maggior ragione stiamo continuando a costruire nuovi immobili quindi l'offerta potenzialmente aumenta in certe zone il prezzo degli immobili non può aumentare per ragioni demografiche. E parlando di minacce mi viene facilissimo il collegamento con lo sponsor del video di oggi che è NordVPN che ci permette di tutelarci dalle minacce dai rischi che potresti correre online. Che cos'è NordVPN? Ma soprattutto che cos'è una VPN? Una VPN è un'applicazione che permette di trasmettere dati ok? Collegandosi ad esempio a internet su reti pubbliche in modo anonimo e sicuro. Com'è possibile garantire questa sicurezza? Perché fondamentalmente la VPN va a camuffare i dati IP dell'utente. I dati IP per chi non fosse esperto sono quelle informazioni tue personali che passano sul web. Ti sei mai chiesto come mai ti vengono fuori delle pubblicità così targettizzate sui tuoi interessi? Bene questo avviene perché ci sono dei sistemi che permettono di leggere i dati IP di chi sta navigando. Una VPN camuffa gli indiritti IP e fa un'operazione di criptografia dei dati quindi in altre parole rende leggibili i dati di chi utilizza una VPN a chi non è autorizzato. E l'utilizzo di NordVPN è particolarmente interessante quando ad esempio devi andare in vacanza. Siamo appena tornati dalle ferie ma ovviamente io personalmente sto già pensando alle prossime vacanze quando vai in vacanza se magari vai all'estero devi prenotare un aereo e lo sapevi che dalle tue informazioni IP si può capire se stai navigando tramite un Mac o un PC e questo può avere un impatto sul prezzo che pagherai dell'hotel o del biglietto aereo che vuoi comprare? Questo succede e si chiama Dynamic Pricing proprio il fatto che molte società cambiano i prezzi dei loro beni o servizi sulla base delle informazioni di navigazione. Bene con NordVPN puoi mascherare queste informazioni e ottenere il prezzo giusto ok non falsato da queste politiche sul prezzo. Tornando al tema delle vacanze un'altra ragione per utilizzare una VPN è quando magari sei in aeroporto ti vuoi collegare alla rete wifi dell'aeroporto che però è una rete aperta a cui tutti possono collegarsi e un hacker malintenzionato potrebbe rubarti delle informazioni importanti dal momento che siete tutte e due collegati ad una rete che non ha un particolare sistema di protezione invece una VPN criptografando i tuoi dati ti mette al sicuro da questo rischio. Bene NordVPN ci ha messo a disposizione un'offerta per chi segue questo canale un'offerta incredibile che terminerà il primo di ottobre e ogni utente che acquisterà il piano biennale di NordVPN dall'Italia riceverà un buono sconto di Amazon. Se vuoi cogliere questa opportunità clicca il link di NordVPN che trovi in descrizione per acquistare due anni di NordVPN con uno sconto esclusivo e ricevere un buono sconto Amazon di importo pari 30 euro. Ti lascio il link in descrizione. Ok chiarite la situazione in cui si trova il mercato immobiliare penso sia logico chiedersi cosa fare ora. Ad esempio io devo comprare la prima casa dovrei preoccuparmi? Mi hanno proposto l'acquisto di una billetta che mi piace tantissimo però non ci dormo la notte dal timore di fare un passo falso. È davvero meglio aspettare? Allora ulteriore premessa che lo so non è condivisa ma non è condivisa neanche l'educazione finanziaria in Italia quindi non possiamo lamentarci per molti la casa è un asset è un investimento per chi ha conoscenze finanziarie capisce la differenza tra un investimento una scommessa e un bene la casa in cui vivi non è un investimento è un bene durevole è qualcosa che dobbiamo utilizzare per un lungo periodo di tempo generazioni come quelle dei miei genitori hanno visto una rivalutazione in termini reali abbiamo capito la differenza del prezzo dei loro immobili ma io quando acquisto la mia autovettura dal momento che è un bene non mi aspetto di rivenderla a un prezzo più alto la casa è un bene indispensabile per la famiglia ma che uno si consuma e se si rivaluta ben venga ma non mi aspetto di guadagnarci dall'immobile come invece mi aspetto di guadagnare da un investimento quindi la casa non è un investimento è una spesa trattandosi di una spesa la vera domanda non è cosa farà il mercato immobiliare perché possiamo fare solo delle stime però è comunque una scommessa nessuno può saperlo esattamente è una scommessa per te che devi comprare case e starci 30 anni non puoi sapere effettivamente se il mercato salirà o scenderà nel mio caso acquisto un immobile lo rivendo tra sei mesi non sono affetto più di tanto dall'evoluzione dei prezzi degli immobili ok devi capire questa differenza ma è impossibile comprare al minimo sia nei mercati finanziari che nel mercato immobiliare quello di cui dobbiamo accertarci è di non fare il passo più lungo della nostra gamba se davvero l'immobile è più difficilmente acquistabile dalla media della popolazione devo verificare se io sono in condizioni di effettuare un acquisto consapevole del mio immobile cioè metto in difficoltà le mie finanze con questo acquisto cosa potrebbe andare storto se qualcosa andasse storto ho un paracaduto d'emergenza che mi tiene a galla non possiamo prevedere l'evoluzione dei prezzi possiamo solo fare delle analisi sull'impatto che l'aumento dei tassi un proseguo di un'inflazione così elevata bene tutti questi fattori possono avere sulle nostre finanze personali a questo si aggiunge un suggerimento che secondo me vale sempre essendo un bene se ti serve il bene compralo ma compralo bene quindi oltre ad aver valutato l'aspetto finanziario magari compralo da ristrutturare che abbiamo capito sono gli immobili che andranno più in difficoltà perché sono la maggior parte e magari ristrutturalo tu è un grande lavoro magari ti richiede un anno però magari risparmi il mio profitto di Vend House che fa la ristrutturazione per chi non ha tempo ok più in allineamento di interessi così non so cosa poter dire tanto come ti dicevo compriamo un immobile al mese non possiamo impattare il mercato ma è indiscutibile che ogni operazione che facciamo prevede ovviamente delle tasse da pagare sia per acquistare l'immobile sia sul guadagno e ovviamente c'è un guadagno se tu te la ristrutturi questo guadagno non lo paghi a me che lo faccio di mestiere con i miei soci e voglio un profitto anche solo per ripagare il rischio di impresa fallo tu impara a fare questi lavoretti e quantomeno potresti risparmiare un 25-30% sul prezzo dell'immobile che guarda caso il guadagno che facciamo noi se non è il tuo mestiere non hai manualità per poterlo fare valuta di comprarla magari più piccola è quello che sta succedendo adesso si stanno riducendo le dimensioni degli immobili transatti perché la gente dice io 150.000 euro 200.000 euro prima ci riusciva a comprare dico un numero a caso 120 metri quadri adesso ne posso comprare solo 100 ok la compri più piccola ma adatta alle tue finanze queste sono le regole per poter comprare un immobile nonostante questa condizione di incertezza e cogliendo comunque le opportunità di un mercato che è un mercato di compratori come abbiamo visto prima se poi in questo momento hai la possibilità di comprare una casa in contanti beh hai vinto grazie